Lo slogan scelto dalla Spicigelle Abruzzo Molise, che sarà in piazza il 29 ottobre a Campobasso, è una parafrasi di una celebre frase di Andreotti. Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha, sarà il motto del sindacato, che aderirà alla manifestazione nazionale per protestare contro la manovra del governo, che se non sarà corretta, hanno spiegato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, porterà misure assolutamente inique che andranno a colpire sempre le stesse categorie di persone, come i pensionati. Noi abbiamo l'impressione che stiamo vivendo in due mondi paralleli, c'è un mondo che viene narrato e raccontato con aumenti di stipendi, aumenti di posti di lavoro, e poi dopo c'è la realtà, aumenti di 3 euro che mortificano il potere d'acquisto dei pensionati. Noi nel nostro Molise vediamo che il lavoro non ce n'è, quando si parla di lavoro a tempo indeterminato non c'ha più senso. Il lavoro a tempo indeterminato sono anche lavori che sono retribuiti con 350 euro al mese, ad esempio nelle cooperative sociali. La CGL sarà in piazza da sola, ma i contenuti sono condivisi anche da Cisle Will, fa sapere il sindacato, che mette in chiaro che sarebbe ora di smetterla di pensare ai pensionati come al Bancomat d'Italia, cui ricorrere ogni volta che non si sa dove attingere. Sarebbe invece ora di pensare ad una rivisitazione totale della previdenza, fisco e economia sociale. Noi negli anni passati, quando hanno bloccato la rivalutazione, abbiamo dato anche una disponibilità in cui abbiamo detto, bene, se bisogna fare un sacrificio, facciamo in modo che il risparmio che voi ottenete dalla mancata rivalutazione lo investite sui fondi per i giovani. Noi abbiamo da tempo proposto che ci sia un fondo di garanzia contributiva per i giovani precari, per quelli che sono costretti a lavorare con partite IVA e invece in realtà sono lavori dipendenti. Insomma, per questi giovani noi dobbiamo dare una speranza di avere un sistema previdenziale adeguato e pubblico. Il governo sta preparando un'altra legge di bilancio che impoverisce il paese e non possiamo permettercelo e per questo scenderemo in piazza in tutta Italia, dice la CGL. Ci vuole un fisco sicuramente più equo, poi sicuramente si devono andare a prendere soldi, come diciamo spesso, là dove stanno.